come vedi anche i gentiluomini nel loro piccolo si diciamo alterano che cosa è successo era cinque minuti fa stavo cercando di sistemare il flickering ovvero lo sfarfallio di quei led alle mie spalle come è evidente senza riuscirci abbiamo sistemato il microfono sistemato un pochino il colore grazie a tutti i suggerimenti che mi avete dato in community ma il flickering non vuol proprio saperne di andarsene evidentemente si è affezionato a noi e ti chiedo scusa ma ce lo teniamo ancora per un po così chissà che non riesca nei prossimi giorni a porre rimedio ma veniamo all'argomento del giorno perché ci sono delle buone e delle cattive notizie partiamo dalle cattive degli aggiornamenti di windows 10 e di windows 11 ci fanno penare non poco e ci creano dei grossi problemi le buone notizie sono che naturalmente ci sono delle soluzioni e allora non perdiamo tempo e tuffiamoci a capofitto nell'argomento del giorno e quindi se ti senti pronto iniziamo ebbene sì windows 10 e windows 11 hanno deciso tanto per cambiare di fare un pochino di capricci nel caso di windows 10 ci sono degli aggiornamenti molto riottosi che rischiano di bloccare addirittura il nostro computer o comunque di darci degli errori piuttosto fastidiosi mentre nel caso di windows 11 la situazione è un po diversa perché ci sono degli aggiornamenti uno in particolare che magari desidereresti avere ma che non ti arriverà mai a meno che non prendi le opportune precauzioni ma prima di vedere tutto questo nel dettaglio dobbiamo come ben sai compiere il nostro sacro rituale apotropaico per tenere a badale altrettanto riottose divinità del tubo disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va e partiamo proprio da windows 10 infatti la rivista punto informatico di cui ti leggerò solamente il titolo alla fine del mese di ottobre ci diceva che windows 10 con l'aggiornamento kb 50 45 594 aveva risolto finalmente il problema delle schermate blu della morte le cosiddette bsod ovviamente pochi giorni dopo lo stesso aggiornamento insieme al kb 50 44 273 ci crea ben altri problemi ma questi li dobbiamo leggere un attimino nel dettaglio ebbene sì sembra non esserci pace dice punto informatico per gli aggiornamenti destinati ai sistemi operativi di casa microsoft anche i pacchetti bla 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 distribuiti in ottobre per windows 10 sono affetti da problemi già segnalati dai feedback degli utenti ed ora confermati in via ufficiale finalmente dalla stessa microsoft si tratta rispettivamente di un update opzionale quello di fine mese e dell'ultimo patch tuesday che invece è obbligatorio per entrambi continua l'articolo persiste la comparsa dell'errore 0x 800 f 0805 durante la fase di installazione e questo errore impedisce di portare a termine la procedura in maniera corretta e l'aggiornamento resta bloccato tenta in continuazione di reinstallarsi ma termina sempre con lo stesso errore a meno che naturalmente non effettui la procedura che ti mostrerò tra qualche minuto i fix ufficiali dovrebbero essere rilasciati nel corso del patch tuesday di novembre ovvero teoricamente proprio oggi il mio consiglio tuttavia come sempre è quello di temporeggiare un attimo e di non fare immediatamente il fix visto che come abbiamo appena avuto modo di constatare con i nostri occhi microsoft ha preso questa brutta abitudine di risolvere un problema e crearne un altro ma passiamo a windows 11 perché anche in questo caso come puoi vedere per quanto concerne la 24 h2 di windows 11 microsoft ha fatto sapere di aver risolto i problemi di incompatibilità con l'app voice meter che è detto per inciso esattamente l'app che utilizzo io per registrare questi video e che ci ha fatto tanto tribolare per la regolazione dell'audio pertanto il blocco dell'aggiornamento è stato rimosso mentre rimane bloccato a causa di problemi con alcune fotocamere ed anche con alcuni lettori di impronta digitali ma che cos'è questo blocco questo blocco è quello che impedisce in alcuni casi ai computer di ricevere l'aggiornamento a windows 11 24 h2 allora problema risolto o no e probabilmente no e infatti è proprio la rivista player punto it che ci informa del fatto che windows 11 24 h2 non arriverà su tutti i pc anche sui pc compatibili potrebbe non arrivare ecco perché a quanto pare c'è un elenco di macchine che sono state categorizzate da microsoft come problematiche e quindi potrebbero non ricevere a breve o addirittura mai il nuovo windows 11 24 h2 e tra queste macchine problematiche figurano quelle che hanno determinati tipi di hardware oppure determinati tipi di software installato e qui vediamo alcuni esempi come i computer asus in particolare i modelli x 415 ka e x 515 ka che a causa di un problema di schermate blu dopo l'installazione dell'aggiornamento alla 24 h2 sono stati esclusi completamente da questo update ma non basta qui viene portato anche l'esempio di proprietari delle nuove schede madri z 890 oppure ancora chi fa uso del driver intel ssd che utilizza la tecnologia intel smart sound purtroppo l'elenco non si ferma qui perché altri tipi di hardware e altri tipi di software sono stati completamente esclusi dall'update in alcuni casi ha ragione e in altri però ha torto per fortuna però per ovviare sto testando proprio in questi giorni uno script che no non è flyby e no non è nemmeno quello di cristatus che dovrebbe porre un efficace rimedio a questi problemi ma non basta dovrebbe anche fornirci una versione deblottata di windows 11 24 h2 originale microsoft che vuoi di più ma spostiamoci su una macchina con installato windows 10 ma soprattutto installati i due aggiornamenti riottosi e cioè il kb 50 44 273 e il kb 50 45 594 quest'ultimo l'ho installato proprio ieri e quello che mi ha fatto penare di più ma per risolvere il problema su questa macchina e sulle macchine di diversi clienti ho lanciato in realtà una serie di operazioni generiche che altro non fanno se non andare a sbloccare completamente gli aggiornamenti di windows queste operazioni ho pensato di tradurle in uno script che ho utilizzato sui pc dei miei clienti che hanno fatto da cavia e che quest'oggi voglio proporre anche a te si tratta di uno script che potrai utilizzare al bisogno ogni qual volta un qualche aggiornamento sarà bloccato quindi attenzione serve per sbloccare sia su windows 10 che su windows 11 qualunque aggiornamento problematico ma non risolve i problemi che può dare un aggiornamento dopo la sua installazione andiamo a vederlo insieme chiudiamo quindi questa finestra ed andiamo ad aprire il nostro browser su questo browser nel motore di ricerca andremo a digitare come sempre gentiluomo digitale effettuiamo la nostra ricerca e facciamo come al solito riferimento al primo risultato ovvero quello relativo al dominio gentiluomo digitale punto it apriamo il sito e una volta che si sarà aperto ci porteremo qui in alto in questa sezione che si chiama downloads aperta la pagina scendiamo un pochettino più in basso fino ad individuare questo file qui quello che si chiama update fix potremo fare clic sul pulsante azzurro file download ma nel caso in cui non riuscissimo a trovarlo possiamo anche andare qui in alto a destra sulla lente di ingrandimento cliccarci su e nella barra di ricerca digitare ad esempio la parola fix ed ecco che dopo pochi secondi ci compare il nostro download clicchiamoci su per scaricarlo il download sarà istantaneo perché il file che ho scritto è veramente molto ma molto piccolo potremo cliccare su questo pulsante per andare ad aprire la cartella che lo contiene e potremo chiudere la finestra del browser a questo punto faremo doppio clic sul file che abbiamo appena scaricato quello che si chiama update meno fix meno v2 meno 1 punto zip e una volta aperta la cartella compressa trascineremo l'unico file presente quello che si chiama update fix v2 punto bat sul nostro desktop e potremo chiudere anche quest'altra finestra ma come fa questo script a risolvere tutti quanti i problemi di installazione degli aggiornamenti o quasi te lo faccio vedere senza scendere eccessivamente nel dettaglio perché in realtà è una cosa molto semplice la prima cosa che fa questo script è quella di andare a prendersi i cosiddetti privilegi amministrativi ovvero la cosa che facciamo sempre ti chiede il permesso per essere eseguito come amministratore fatto questo va a fermare tutti quanti i servizi relativi agli aggiornamenti di windows va a cancellare tutta quanta la cache e tutti quanti i file temporanei relativi agli aggiornamenti perché questi spesso sono quelli che vanno a bloccarli ma non è possibile cancellarli se prima non hai arrestato i relativi servizi dopodiché reimposta le corrette autorizzazioni per tutti questi servizi perché alcuni potrebbero non riuscire ad accedere correttamente a determinate funzionalità di windows per mandare a buon fine gli aggiornamenti registra nuovamente tutte quante le dll che sono delle librerie a collegamento dinamico vabbè servono a far funzionare correttamente i programmi in questo caso in particolare sempre gli aggiornamenti dopodiché ripristina correttamente tutta quanta la configurazione di rete per due motivi primo perché se la configurazione è sballata gli aggiornamenti non è possibile scaricarli perché non c'è un accesso corretto a internet e in secondo luogo perché in alcuni casi sono proprio gli aggiornamenti stessi a scassare queste configurazioni dopodiché riavvia tutti quanti i servizi che aveva interrotto all'inizio e ti saluta dicendoti che l'operazione è stata completata in realtà ci vuole di più a spiegarlo che non a lanciarlo vediamo come funziona ci basta fare un doppio clic sul file ci viene chiesto il permesso di essere eseguito come con privilegi amministrativi cosa che possiamo confermare cliccando su sì dopodiché attenderemo semplicemente il termine come vedi sono stati arrestati i servizi le dll sono state registrate la cache e tutto il resto è stato svuotato i servizi vengono riavviati la configurazione di rete viene ripristinata dopodiché premeremo un tasto e i nostri aggiornamenti come per magia dovrebbero essere stati tutti quanti sbloccati e non dovrebbero più restituirci alcun errore naturalmente non posso giurarti che nel 100 per cento dei casi questo script risolverà tutti quanti i tuoi problemi relativi agli aggiornamenti bloccati su windows 10 e windows 11 sulla base di quella che è la mia modesta esperienza informatica posso dirti che in un buon 80 per cento dei casi abbondante i problemi che sottendono al blocco degli aggiornamenti sono esattamente quelli su cui va ad intervenire questo script non si tratta di uno script da lanciare con regolarità si tratta di un qualcosa da tenere in tasca ed utilizzare quindi al bisogno se poi funzionerà bene o male sarà solamente il tempo e soprattutto la community e quindi anche tu a sapercelo dire ma proprio a proposito di community quest'oggi abbiamo degli importanti ringraziamenti da fare che vanno a pino costantino maurizio lanzillo diego galli pietro mazza e lino parisi che si sono abbonati oppure hanno rinnovato il loro abbonamento alla community dei gentiluomini e quindi da parte mia e naturalmente anche di tutta la community stessa il benvenuti oppure il bentornati a bordo ma ancora abbiamo dei ringraziamenti da fare anche nuovamente a pietro mazza luca geromin maurizio andrenacci anna nancy bertini e thomas 29 15 per i loro generosissimi super grazie con cui hanno voluto ulteriormente contribuire alla vita della community e ancora un altro ringraziamento specialissimo e quello destinato proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima